Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi parliamo di mindfulness, un argomento enorme ma anche bellissimo che voi sapete mi interessa molto e che mi ha fatta anche crescere e cambiare negli ultimi anni. Se mi seguite su Instagram sapete che l'anno scorso, se non ero l'anno scorso, ho ultimato un corso di mindfulness che mi ha resa mediatrice di mindfulness. Quindi ho la possibilità anche di insegnarlo o comunque di passare anche ad altre persone quelle nozioni che io ho imparato e quegli esercizi che ho fatto io e che mi hanno resa un po' più consapevole e quindi in grado di vivere una vita più mindfulness. Mindfulness è una parola che sentite tantissimo, ormai non si parla d'altro. Una morning routine mindfulness oppure non so, fai un lavoro mindfulness eccetera. Però in realtà in pochi sanno veramente che cosa significhi questo termine e quanto possa cambiare in meglio la propria vita, la vostra vita. Prima di iniziare a parlarvene però vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un nuovo video e se non lo fate già di seguirmi anche su Instagram. Io sono Martina Tazza. Bene, direi di cominciare. Parto col dire che la mindfulness è ovviamente qualcosa di legato al momento presente, al qui e ora. Questo è più o meno quello che sappiamo su questa parola. Infatti noi da quando nasciamo abbiamo soltanto un momento per agire ed è il qui e ora. Non ci sono altri momenti nei quali possiamo effettivamente fare qualcosa per cambiare la nostra vita. Eppure non ci viviamo nel qui e ora perché siamo sempre o intrappolati nel passato, pensate per esempio agli stati di depressione che sono proprio dovuti ad essere imprigionati nel passato, oppure imprigionati nel futuro, pensati a tutto lo stress che accumuliamo soltanto pensando a quello che potrebbe succedere in futuro. La verità è che il passato è qualcosa che ci può insegnare sicuramente, ma nel quale non possiamo tornare, a meno che non abbiamo una DeLorean e quindi non possiamo cambiarlo. Allo stesso tempo il futuro è qualcosa che possiamo cercare di avere, che possiamo sperare di ottenere, ma in realtà non sappiamo neppure se ce l'avremo un futuro. Purtroppo questa è la realtà. Che cosa abbiamo? Abbiamo il qui e ora ed è in quel momento che dobbiamo riuscire ad agire. Quindi la mindfulness è proprio questo, trovare la consapevolezza e calarsi nel momento presente, nel momento che stiamo vivendo in questo istante. Infatti esiste anche il termine mindlessness, cioè non essere consapevoli del momento presente. Questo ci porta a prendere decisioni sbagliate, a non cogliere le occasioni, a non sviluppare in pieno il nostro potenziale, ad essere più soggetti a stress e ad ansie, insomma a non vivere veramente felici. Con la mindfulness che ci riporta all'omento presente e ci fa capire qual è il modo giusto di agire ora, riusciamo ad essere più consapevoli di quello che stiamo vivendo, a capirlo a fondo e quindi a prendere delle scelte migliori per noi e per il nostro futuro. Non viviamo più con il pilota automatico, ma prendiamo ogni decisione, ogni strada della nostra vita con piena consapevolezza e inevitabilmente le nostre scelte saranno mirate alla nostra felicità. Insomma, con la mindfulness riusciamo ad avere un'esperienza di vita più ricca e piena. E in realtà quello che ci viene da pensare è ma se è davvero così, perché tutti noi non viviamo nel momento presente? Beh, perché questo non è semplice, soprattutto con la vita che facciamo adesso. Ma prima voglio partire dalla storia della mindfulness, da dove nasce? Le radici di questa filosofia si possono ritrovare nella tradizione contemplativa buddista, ma al momento ovviamente la mindfulness è completamente slegata da qualsiasi religione. Il termine mindfulness deriva dal sati e significa consapevolezza, quindi proprio vivere il momento presente. E trae origini dalle quattro nobili verità e dall'ottoplice sentiero. Le quattro nobili verità e l'ottoplice sentiero fanno anche questi parte della filosofia buddista, però appunto è da qui che è nata la mindfulness. Vi leggo quali sono queste quattro nobili verità direttamente dal quaderno che ho usato per studiare mindfulness. Numero 1. La sofferenza fa parte della natura e dell'esistenza umana. Numero 2. L'origine della sofferenza è l'attaccamento, l'avversione e la visione errata. Numero 3. La cessazione della sofferenza è possibile. Numero 4. Il percorso per la cessazione della sofferenza esiste ed è l'ottoplice sentiero. L'ottoplice sentiero è in realtà un elenco di azioni che dovremmo compiere, quindi essere retti in varie parti della nostra vita, retti nella parola, nell'azione, nella comprensione ed anche nella consapevolezza. Ecco quindi che qui entra in campo la mindfulness. La mindfulness è arrivata in occidente grazie al monaco buddista zen vietnamita Thich Nhat Hanh che l'ha portata appunto in occidente per la prima volta e l'ha slegata dalla sua vita di monaco adattandola proprio alla vita di tutte le persone di qualsiasi religione appartenessero. Poi nel tempo chiaramente questa disciplina, diciamo, questa filosofia si è sviluppata ed è diventata ancora più parte integrante della cultura occidentale e dell'epoca moderna. Questo perché? Perché gli studiosi hanno cominciato ad applicarla anche scientificamente quindi per curare persone che stavano male, quindi è stata usata appunto nella medicina, nella psicologia, nella psichiatria e così via. E ci siamo resi conto che la mindfulness effettivamente portava alla guarigione di tante persone che soffrevano. Io vi dico per esperienza che anche una psicologa che conosco, alla quale ho parlato della mindfulness, mi ha detto di aver fatto per la sua professione degli studi di mindfulness. Quindi è effettivamente qualcosa che si è applicato nella nostra quotidianità, ci può aiutare sia per i piccoli che per i grandi problemi. Infatti la consapevolezza può essere applicata a qualsiasi campo della nostra vita, non solo quando ci sediamo a meditare, ma anche a scuola, nel lavoro, nello sport, nei contatti con gli altri, veramente in qualsiasi momento, per non sentirsi schiacciati dal passato e dal futuro, ma poter vivere a pieno il momento presente. Che cos'è che al giorno d'oggi ostacola maggiormente la mindfulness? Perché vi ho detto appunto che è difficile essere completamente presenti nel momento che stiamo vivendo. Sembra facile a dirsi, ma non è assolutamente semplice. E ci sono principalmente tre motivi per cui nell'epoca moderna è difficile staccarsi dal piloto automatico e vivere con consapevolezza. Numero uno, l'iperconnessione. Numero due, i ritmi di vita troppo frenetici. E numero tre, il multitasking. L'iperconnessione è praticamente l'essere costantemente online, costantemente connessi. In realtà, essere sempre al cellulare o al computer ci porta chiaramente a non vivere quello che stiamo vivendo in questo istante e nel luogo dove ci troviamo nella realtà. Quindi ci porta ad essere sempre nelle vite di qualcun altro e anzi, ormai è dimostrato, i social rendono dipendenti, creano dipendenza. Quindi questo è qualcosa che ostacola la consapevolezza. I ritmi frenetici della vita quotidiana probabilmente non ve li devo neppure spiegare. Siamo veramente oberati di impegni. Tutto il giorno corriamo dalla mattina alla sera dietro a una cosa e poi un'altra e poi un'altra e poi un'altra e non abbiamo il tempo di concentrarci su quello che stiamo facendo. Perché qualsiasi azione facciamo, con la mente siamo sempre a quella che faremo dopo e dopo ancora, dopo ancora e così via. Tanto che degli studi hanno dimostrato che il più del 50% del tempo che passiamo da svegli non pensiamo a quello che stiamo facendo, ma stiamo pensando a qualcos'altro che abbiamo fatto prima o che faremo dopo. Quindi questo dimostra quanto siamo totalmente incapaci di vivere quello che stiamo facendo nonostante ci pieniamo le giornate di cose da fare. Infine il multitasking. Di solito viene considerato una grande qualità essere capaci di fare più cose contemporaneamente, ma anche qui degli studi hanno dimostrato che non è così. Anzi, cambiare spesso attività porta a un dispendio di energie, a uno spreco di tempo e soprattutto non riusciamo a concentrarci bene su quello che stiamo facendo. Perdiamo dei dettagli e quindi quello che facciamo lo facciamo anche male. Ecco quindi che la mindfulness ci spinge ad evitare il multitasking e a concentrarci di più su quello che stiamo facendo, un compito alla volta, ma fatto con consapevolezza e bene per avere dei risultati migliori. Quindi insomma, come si può praticare la mindfulness? Ci sono due modi, il metodo formale e il metodo informale. Il metodo formale chiaramente consiste nel prendersi un periodo di tempo, quindi ritagliarsi un po' di tempo durante la giornata da dedicare alla consapevolezza. Quindi possiamo, per esempio, sederci a meditare oppure possiamo addirittura sederci e acuire i cinque sensi, quindi con la mente elencare che cosa sentiamo, cosa odoriamo, che cosa stiamo provando in bocca, cosa sentiamo, cosa tocchiamo, cosa vediamo. Quindi questo è un buonissimo esercizio per essere presenti nel momento attuale e richiede pochi minuti al giorno. Però possiamo farlo anche in maniera informale, quindi applicando la mindfulness nelle nostre attività quotidiane. Avete mai provato, per esempio, quando vi lavate i denti, a concentrarvi su ogni singola sensazione che sentite? Il sapore del dentifricio, lo spazzolino che strofina sui denti, il profumo o, non so, la mano che tiene lo spazzolino, che cosa sente. Oppure quando fate la doccia, quando lavate i piatti, sono tantissime le sensazioni, gli input che ci arrivano in qualsiasi momento della giornata, ma noi li ignoriamo. Pensate, per esempio, a tutte le cose che fate, e le faccio anche io, soltanto mentre aspettiamo che sia pronto il tè che abbiamo inserito la bustina nell'acqua, ma non siamo capaci di aspettare così fermi, in silenzio, dobbiamo per forza occupare quei tre minuti facendo qualcosa. Questo è un esercizio, è probabilmente esercizio più difficile, ma è anche quello che porta maggiori risultati. Bene ragazzi, questa era solo una panoramica generale di questa bellissima filosofia che è la mindfulness. Io spero che vi interessi, vi sia piaciuto, anzi fatemelo sapere, così magari farò anche altri video in cui approfondiamo le varie parti di cui abbiamo parlato e vi insegnerò anche qualche trucchetto, qualche esercizio da portare nella vostra quotidianità per essere più presenti, più consapevoli e alla fine anche più felici. Io, niente, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!